Voi come Fede Rugby vi state muovendo per garantire la copertura della Celtic League oggi o del futuro prossimo per magari contattare Sky, Media, Seltraio, chi quant'altro? Noi siamo abituati a cercare di vedere avanti. Oggi sappiamo benissimo com'è la situazione d'Italia, non sapremo come sarà domani, d'altronde hanno nominato un liquidatore, questo liquidatore poi prenderà delle decisioni. Chiaramente come federazione ci siamo preoccupati che nel caso le trasmissioni non potessero più essere in corso con Dalia di trovare altre soluzioni. Hai mai pensato di autoprodurre in caso? Si autoprodurre quando ci sono gli altri che non ti producono, finché ci sono gli altri che ti producono e ti mandano in onda, ecco perché dobbiamo autoprodurre.